Ah, piano? Ah, eh, 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 va bene. Va bene, a livello da domani, c'è un po' con me, come va bene? Ah, non lo prenderemo, non lo prenderemo. Va bene, ok, grazie, 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 grazie. Va bene, grazie, 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 grazie. Grazie, grazie. 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 La domani la... Poi aggiungi quel blocco di careno. Ah, lo aggiungiamo a parte? No, se ti abbiamo sbagliato. Ma il vidro si può montare due vidro in uno? Primo, io ne mando due separati. Sì, prima mandiamo quelle di prima, per non stare il cabello. No, no, no. No. Noginiamo. E? Mi metà qua? Capitola? Dora. Sì, prima. Gli metà qua? Grazie a tutti. Direi che basta. Grazie a tutti. Grazie. Una bilancia ce l'hai Dalvi? Una bilancia? Una bilancia? Eh. Se non sto parco se non funziona. Puoi dire un messaggio su quel telefono che sono? Con il tuo numero. Mi chiamassero a te non... Vale vengo. Anche il peso vediamo? No. Stendere. Stendere. 10, meno di 10 kg. Spendi. No. No. No.